Buonasera. Buonasera e scusate per il ritardo, abbiamo come vedete una presidenza molto affollata e per fortuna. Ovviamente ringrazio tutti coloro i quali hanno scelto di partecipare, le autorità che sono in prima fila e che vedo e soprattutto i molti amici che sono venuti per questa presentazione. Consentitemi di dire due parole a me che ho il compito successivamente di dare la parola agli intervenuti. Come sanno le persone che mi hanno invitato, io non sono un buon passamicrofono, ma qualche cosa la devo dire anche io, altrimenti non mi sento a mio agio. Le due cose che devo dire prima di passare la parola ai primi interventi è questa, cioè oggi il libro che viene presentato adesso ha una importanza fondamentale nella nostra storia. Parliamo del primo presidente della regione toscana, ma parliamo anche di un uomo politico che ha lasciato una traccia profonda laddove ha svolto il suo compito istituzionale. Tra l'altro c'è una riscoperta importantissima della figura di Lagorio in questi giorni, il libro di Alessandro Abramo e Franco Mariani non è l'unico, un altro viene presentato adesso a Milano, una biografia importante che è quella di Letizia Argentieri verrà presentato nei prossimi giorni. C'è una riscoperta fondamentale non soltanto dell'uomo Lagorio ma anche del pensiero socialista di quel periodo che ha avuto, e qui rubo veramente le parole a Silvia Lagorio, una dannazio memoria che c'è stata durante questi anni e che invece va e viene riscoperta proprio oggi che c'è bisogno di quel socialismo libertario, umanitario e autonomo che Lagorio ha interpretato. Mi consentite due ricordi personali, io sono vecchio abbastanza, però non così tanto da aver seguito i primi passi politici di Lelio Lagorio. Due ricordi personali sono i seguenti, il primo è che io ho avuto la fortuna, e devo dire la fortuna al contrario di quello che possono dire molte persone, di servire, o meglio, di svolgere il servizio di leva durante il periodo in cui Lelio Lagorio era ministro della difesa. Erano gli anni in cui si preparava una delle più grosse, la prima forse importante missione militare che era quella in Libano, e posso testimoniare di averlo svolto, diciamo così, ormai in età abbastanza adulta, ma con un senso forse di appartenenza e di un senso di servizio che quel ministro seppe dare negli anni in cui guidò quel ministero. L'altro ricordo, che è ancora più, un po' più vecchio nel tempo, che risale a quando ero ragazzino, poco più, e ricordo un episodio importantissimo perché Lagorio era presidente della regione da pochi mesi, e ci fu una tensione sociale fortissima in questa città legata al problema della casa. Gli sfrattati che a quel tempo erano alloggiati al centro di Via Guelfa occuparono, o meglio, chiesero un incontro con la regione occupandone la sede che a quel tempo era in Piazza Santissima Annunziata, nel Palazzo Budini Gattai. Ecco, io ricordo bene che da quel confronto aspro con una parte, diciamo, di Firenze, che era sul piede di guerra in quel momento, rimasi estremamente colpito da come Lagorio presidente riuscì a dialogare con quelle emergenze sociali come forse nessun altro in quel periodo molto difficile sarebbe riuscito a fare. E quella cosa forse mi colpì perché a me, come molti altri, che a quel tempo avevano esperienze abbastanza diverse, in una sinistra un po' più radicale e quant'altro, trovarono un approdo, molti anni dopo, in quella stagione che fu quella dei meriti e dei bisogni, cioè trovarono un punto di riferimento in quel socialismo autonomista che ne fu in qualche modo il protagonista. Allora, io vorrei cominciare. Tra l'altro, devo dire francamente, sono un po' in imbarazzo perché devo presentare, io giornalista, il libro su un giornalista, perché Lello Lagorio è stato un giornalista, fino all'ultimo, devo testimoniare, c'è qui Carlo Gattai che ha condiviso con me per molto tempo la permanenza nel direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, che pagava la sua quota regolarmente del sindacato dei giornalisti, non soltanto dell'ordine, ed è un libro su un giornalista fatto da due giornalisti, cioè da Franco Mariani e da Alessandra Abramo, ma io pregherei un'altra collega che la figlia di Lelio, di dire due parole, prima di dare la parola a una volta, scusate il bisticcio al Presidente del Consiglio regionale. Allora, io volevo soltanto esprimere un grazie a nome della mia famiglia e dal profondo del mio cuore per questa iniziativa editoriale e per questa giornata di presentazione. Il libro, che verrà presentato molto bene da tutti i presenti, tratteggia la figura di mio padre e il suo percorso umano e politico e istituzionale, sotto varie sfaccettature. E volevo mettere in luce due aspetti in particolare che possono costituire un esempio della sua figura anche per le nuove generazioni. Mio padre sapeva guardare lontano, aveva una visione politica lungimirante e questo può essere un invito alle nuove generazioni di politici a guardare oltre l'orizzonte del presente, dell'attualità, l'orizzonte temporale che abbiamo davanti agli occhi. L'altro aspetto è che mio padre, accanto all'azione politica e alla gestione della cosa pubblica, affiancò sempre l'attività di storico, perché era convinto, profondamente convinto, che studiare la storia fosse un requisito fondamentale per fare bene in politica. E anche questo può essere uno spunto per le nuove generazioni. Allora, quindi, grazie. Grazie a questo consesso. Vi nomino tutti, ma siete qui davanti agli occhi di tutti. Gli autori, il senatore Nencini, il senatore e il presidente Gianni, il presidente del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio Valamico e il collega Fabri, e voi in sala e con la vostra presenza testimoniate come ricordo di mio padre sia ancora vivo e forte. Mi sembra non solo d'obbligo, ma anche un piacere dare la parola al presidente del Consiglio regionale della Toscana, il dottor Mazzeo. Buongiorno, buongiorno a tutte, buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie soprattutto. Davvero sono felice e onorato di poter essere qui. Alle figlie di Lerio Lagorio, a Silvia, a Francesca, grazie per questo bel momento, perché poi essere oggi qui è un modo semplice con cui noi, cioè chi come me rappresenta l'istituzione, il presidente Gianni, è un modo anche per dire grazie per l'impegno che il vostro babbo ha messo nelle nostre istituzioni. Saluto e vedo con piacere la presenza di Sua Eccellenza, il prefetto di Firenze, saluto tutte le altre autorità, le cittadine e i cittadini presenti. Oggi, insieme al presidente Gianni, che so coinvolto non solo per il ruolo istituzionale, ma anche per la sua relazione personale con Lerio Lagorio, onoriamo uno dei padri costituenti della nostra regione. Oggi, se noi siamo qui, possiamo rappresentare le nostre istituzioni, lo dobbiamo anche a chi l'ha fatta nascere, l'ha fatta diventare quella che poi è, una regione che ha sempre scelto di stare dalla parte giusta della storia. Oggi, insieme a noi, avremo la possibilità, insieme ai giornalisti che l'hanno scritto, a Franco Mariani, Alessandra Maria Abramo, che voglio ringraziare per un lavoro attento, scrupoloso, svolto anche in rapporto con la famiglia del presidente Lagorio. Io voglio ringraziarli perché penso che questo testo trovi più di altri giusto posto nella collana delle edizioni del Consiglio regionale. Penso che qui sia il suo spazio, penso che di qui si deve partire. E voglio ringraziare ancora di più la famiglia, perché so quanto è stata presente, a stimolare questa pubblicazione, quanti contributi importanti ha dato per poter arrivare alla pubblicazione di questo volume. Un volume, che lo dico soprattutto alle figlie, mi piacerebbe poter portare nelle scuole della nostra regione. Lo diceva Silvia, mi permetto di darti del tu prima, diceva che possa essere di esempio per chi si impegna nelle istituzioni. Io penso che dobbiamo andare oltre il racconto della vita, dell'uomo, del politico. L'Elio Lagorio dovremmo trovare il modo di portarla anche nelle nostre scuole, tra i ragazzi che non sono appassionati di politica e che potrebbero appassionarsi leggendo quello che è stato fatto, il racconto di un viaggio nelle nostre comunità, perché poi di questo si parla. Penso che il suo rigore, il senso delle istituzioni, il suo spirito critico e libero ne fanno un esempio anche per chi come me oggi si trova a rappresentare le istituzioni, a rappresentare l'Assemblea legislativa. Oggi è anche un po' casuale, per due di loro, per il Presidente Gianni e per il Senatore Nencini, come dire, c'è stato anche un contatto diretto ed entrambi sono stati Presidenti del Consiglio regionale prima di me, lo hanno conosciuto, lo hanno apprezzato nelle relazioni umane, oltre che in quelle politiche. Io ho avuto modo di imparare a conoscerlo in questi anni di impegno in politica, da quando è arrivato a Firenze, in Consiglio regionale, purtroppo erano gli anni in cui è venuto a mancare. Ricordo quel giorno con il Sindaco Nardella, che ricordò la figura di Lagorio, e lì un po' io iniziai ad appassionarmi, a leggere, a conoscere, a capire, perché poi chi di noi rappresenta le istituzioni rappresenta un filo che si lega nel tempo, seppur con differenze di quella che è l'idea di questa regione. Io ho trovato significativo in questi anni di letture, di approfondimenti, la definizione di potere che dava Lelio Lagorio. Diceva un servizio, una lotta per influire sulla società e migliorarla. Guardate la potenza di questa frase, no? Che spesso non riusciamo a fare nostra nell'impegno quotidiano. A volte sembra dimenticato, io invece credo che questo sia proprio il modo corretto in cui noi dobbiamo servire le istituzioni, dobbiamo stare nella cosa pubblica, rimanere all'altezza degli occhi delle persone, no? Spesso quel suo carattere molto essere rigoroso, ma allo stesso tempo vicino alla gente ne faceva una figura, come dire, no? Che appassionava, ecco. E penso che noi, ricordandolo, ricordiamo un politico attento, un osservatore intelligente, un coerente uomo di governo. Un esempio, un esempio per chi come noi si impegna ogni giorno. La Toscana è, è stata, è e resta terra di diritti, terra di democrazia, terra di buon governo. E rileggere oggi la vicenda umana e politica di un protagonista della nostra storia ci costringe a fare una cosa, ad essere più esigenti con noi stessi, e lo dico a chi rappresenta le istituzioni. Dovremmo cercare sempre di fare un pochino meglio di chi ci ha preceduto, e lasciare i nostri figli, la nostra regione, il comune che amministriamo, un pochino meglio di come lo abbiamo trovato. Spesso si sente forte la responsabilità di non essere all'altezza rispetto a questa sfida, almeno io la sento forte. Però, leggendo storie come quelle di Lelio Lagorio, ci viene voglia, almeno a me, di impegnarmi di più per provare a rafforzare questa bella storia. Quindi io sono contento di essere oggi qui insieme a tutti voi, sono contento di essere insieme alle figlie, so la fatica che si fa ad avere, io lo dico dalla parte opposta, un babbo o, in questo caso, il vostro papà è impegnato nelle istituzioni, perché so quanto noi si è assenti rispetto alla vita e all'impegno della famiglia, ma so anche quanto è importante il contributo che ha lasciato alla nostra regione, e quel contributo è un regalo che ha fatto a tutti noi e alle nostre comunità. vi auguro, come dire, una buona presentazione, vi ringrazio ancora tanto per aver scelto di essere qui insieme a noi. Grazie. Facciamo vedere un video per ricordare l'elio Lagorio. Si inizia con la cerimonia di commemorazione alla Camera dei Deputati qualche giorno dopo la morte. poi avremo un video, un'intervista realizzata al Ministro della Difesa nel 1980, dopodiché avremo un Gianni televisivo, perché da Italia 7 abbiamo preso il suo spezzone nel diario quotidiano sulla Toscana, dal libro omonimo di Eugenio, quando parlò il 9 di novembre della data di nascita appunto di l'elio Lagorio e concluderemo con appunto quello che è stato detto in Parlamento qualche giorno dopo la morte di l'elio. Prego, la regia può partire. Colleghi, come sapete, lo scorso 7 gennaio è venuto a mancare l'elio Lagorio, già membro della Camera dei Deputati nella ottava, nona, decima legislatura. Nato a Trieste il 9 novembre 1925, laureato in giurisprudenza, avvocato e giurista, esponente di primissimo piano del Partito Socialista Italiano, ha iniziato la sua lunga e prestigiosa carriera politica ricoprendo l'incarico di sindaco di Firenze, città a cui poi è sempre stato rimasto profondamente legato ed è stato il primo presidente della Regione Toscana. Ha fatto successivamente più volte parte del Governo in qualità di Ministro della Difesa e di Ministro del Turismo e Spettacolo. Iscritto al gruppo del PSI ne è divenuto presidente nel corso della nona legislatura. In qualità di deputato è stato membro di numerose commissioni parlamentari ed è stato eletto nella decima legislatura presidente della Commissione Difesa. Politico esperto e appassionato, è stato uno dei protagonisti della stagione della vita politica e istituzionale dei governi di coalizione, succedutisi nel corso degli anni Ottanta. La Presidenza, anche a nome dell'Assemblea, desidera manifestare ai familiari che sono presenti nelle tribune le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore. Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Le due corone vengono deposte, una da una coppia di carabinieri, l'altra da una coppia di vigili urbani al monumento dei caduti della Resistenza. L'ultima volta che TV Pistola Libera ha intervistato L'Agorio, era dirigente nazionale del partito, ora è diventato ministro, ministro della difesa. Ecco, che significato ha un socialista al ministero della difesa? Bisogna riflettere sul programma col quale un socialista arriva al ministero della difesa. Io l'ho riassunto in tre punti. Rendere più efficiente le nostre forze armate, rendere più stretti i legami fra le forze armate e la società civile, terzo, rendere più sicura e più garantita la condizione della vita militare, cioè la vita degli uomini che alla vita militare dedicano in tutto e in parte la loro esistenza. Mi sto muovendo su questo filone. L'impatto con le forze armate come sta? Cioè con i comandi? Con i problemi, con le persone? Allora, il primo impatto è stato con quelli che solitamente si chiamano gli alti comandi e devo dire che è stato un impatto buono, nel senso che gli alti comandi oggi riconoscono pianamente il primato della politica, riconoscono i valori della Costituzione e al pari di molti politici, e tra questi politici metto anche i socialisti e metto anche me, sono consapevoli che occorre fare questo sforzo, più efficienza, più democrazia, più giustizia e più legame con la società. In questi giorni ha deciso l'invio di unità militari nella zona di Malta, dell'isola di Malta. Alcuni giorni fa un MIG libico è caduto in Calabria. Da varie parti si sente dire che in Libia ci sono campi di addestramento del terrorismo. C'è insomma fra gli italiani un po' di preoccupazione per rapporti con questo Paese e in generale per le prospettive dell'area del Mediterraneo. Ecco, lei cosa pensa di questa situazione e soprattutto se queste preoccupazioni secondo lei hanno fondamenti? Ma io credo che l'Italia abbia interesse a vivere in pace con tutti i suoi vicini e quindi anche la Libia. Nei confronti della Libia poi noi abbiamo un duplice motivo di collegamento e perché dobbiamo al popolo libico una risposta che cancelli il passato colonialista del nostro Paese e perché poi in Libia, l'altra faccia della medaglia, noi abbiamo lasciato molte speranze, molte memorie e molti ricordi di lavoratori autentici del nostro Paese. Oggi i lavoratori italiani, circa 20-25 mila, lavorano in Libia e abbiamo quindi molte ragioni per vivere in pace con questo Paese. Bisogna però che questo Paese voglia allo stesso modo che vogliamo noi vivere in pace e in armonia, in piena armonia con l'Italia. Qua e là invece in qualche momento si manifestano delle punture di spillo da parte del governo libico che noi abbiamo interesse a dissipare, vogliamo che abbiano fine. Ecco per esempio il caso che lei ha citato all'inizio della sua domanda, il caso della nave italiana Saipem II che lavorava battendo bandiera italiana per il governo maltese nel banco di Medina a 60 miglia a sud di Malta. A questa nave improvvisamente una vedetta libica ha portato un ultimatum. O vai via di qui o ti prendiamo a cannonate perché questo fondo marino è nostro. E noi abbiamo ritenuto che allora, io ho ritenuto che a quel momento fosse necessario dare una assistenza, una protezione alla nave italiana perché riteniamo che nessuno si può permettere di minacciare un vascello che batte bandiera italiana in acque internazionali. Noi non vogliamo complicazioni internazionali, vogliamo che la questione fra Malta e Libia sulla titolarità del fondale marino sia decisa in sede internazionale o la conferenza dell'AIA o il consiglio di sicurezza a Nuova York. Ecco, ma soprusi a navi italiane non le possiamo permettere. Ecco perché questa nostra nave è stata assistita dalla marina militare e dall'aviazione militare del nostro paese. Lei ha governato la Toscana con i comunisti, ora in un governo con i democristiani. Con chi si trova meglio? Io non porrei la domanda così. Delle dovute proporzioni evidentemente. Io non porrei la domanda così. Nel sistema politico del nostro paese non c'è in genere nessun partito che può governare da solo. La governabilità è assicurata dalle coalizioni. Le coalizioni sono efficienti in relazione ai programmi che scrivono e agli uomini che impegnano. Ecco, io devo dire la verità. L'esperienza che ho fatto alla Regione Toscana è un'esperienza che considero positiva perché abbiamo fatto dei programmi e insieme, socialisti e comunisti, abbiamo lavorato per realizzarli. Non sta a me essere giudice perché uno non può essere giudice nel lavoro che ha fatto. Però per quello che sento dire in giro non abbiamo demeritato, non abbiamo una cattiva pagella. 9 novembre 1925. Nasce colui che sarà il primo presidente della Regione Toscana, l'Elio Lagorio. È un personaggio che avrà una vita lunga, vivrà 92 anni fino al gennaio del 2017. E' un uomo che lascia talmente il segno nella Regione che viene soprannominato il Granduca di Toscana. In realtà l'Elio Lagorio era già politico esperto, conosciuto e stimato quando nel 1970, esattamente con le elezioni di giugno, che sono le prime elezioni non solo per la Toscana, ma per le 15 regioni a statuto ordinario che erano nate dalla Costituzione, diventa il primo presidente per questa fondamentale istituzione di governo del territorio. L'Elio Lagorio è personalità che prima di tutto si forma da un punto di vista della professione e come giurista cresce sotto l'ala protettiva niente po' di meno che di Piero Calamandrei, il grande costituzionalista, uno dei padri nobili e degli artefici massimi della nostra Costituzione. E con Calamandrei segue un po' quel filone che derivava dal fondamento azionista del richiamo ai valori di Carlo Ennello Rosselli, uccisi dai fascisti, che con quel trattato socialismo liberale, quindi un socialismo moderato, riformista, socialdemocratico, direi aveva caratterizzato la stagione del primo dopoguerra. Ma l'Elio Lagorio si inserisce presto nel Partito Socialista e vive tutta la gavetta, sarà il segretario provinciale, sarà eletto in provincia, in comune e svolgerà funzioni quali quello del sindaco di Firenze nel 1965 immediatamente dopo il secondo governo Lapira. Ma durerà poco perché l'equilibrio instabile fra le forze politiche lo porta a uscire e cinque anni dopo sarà il candidato scelto dai socialisti, lui avvocato, professore universitario, grande cultore del diritto, sarà scelto appunto per esordire in quello che è un ruolo nuovo in Italia, la nascita delle regioni, ente che si caratterizzano fra i comuni e l'Italia dello Stato e del Parlamento, con lo Stato regionalista che come concetto sarà proprio quello del suo padre, diciamo, e maestro da un punto di vista del diritto e da un punto di vista del pensiero, appunto Piero Calamandrei, questo Stato regionalista ai Toscani avranno lui, lo rimarrà fino al 1978, 8 anni, poi sarà chiamato a incarichi di governo, ministro della difesa, del turismo, poi al Parlamento europeo dove guiderà il gruppo dei socialisti, insomma una personalità di primo ordine e che nella nascita della regione, nei primi atti di programmazione e di governo sarà importantissima. La stagione della costruzione della regione fu una stagione difficile ma entusiasmante, i risultati sono che è nata, le speranze che avevamo all'inizio, beh, speriamo ancora, ciò che si pensava all'inizio era la regione come un piccolo Stato maggiore che dovesse dare un po' di impulsi ai comuni, alle province della Toscana, adesso è diventata un gran ministero e in questo senso è diversa, hanno un compito diverso gli amministratori di oggi. al dolore espresso da tutti i gruppi in modo unanime per la scomparsa di un socialista che ha servito il nostro Paese e che ha rappresentato una generazione politica straordinaria che forse oggi il nostro Paese dovrebbe rimpiangere di più. Io di Leglio Lagorio voglio ricordare una cosa che mi colpi molto, io ero un giovanissimo e come tanti partì dalla mia città per andare in soccorso delle popolazioni terremotate in Irpinia. Ci fu un moto di solidarietà soprattutto tra i giovani che ci vide in migliaia a correre in quei posti e partecipare all'operazione di soccorso. Il ministro Lagorio allora era ministro della difesa e fu un esempio straordinario di come le forze armate italiane parteciparono alle operazioni di soccorso in maniera veramente generosa e poi restarono anche lì in Irpinia a concorrere alla ricostruzione di quelle aree terremotate. Infine vorrei anche dire che la storia del Partito Socialista Italiano è una storia gloriosa che non può essere impangata da nessuno e che rappresenta uno dei momenti più alti della cultura politica e istituzionale della Repubblica Italiana. L'Elio Lagorio è stato un socialista italiano, un socialista europeo, è stato un socialista di governo e lo è stato in un momento molto difficile della storia dell'Occidente in piena guerra fredda, con la strage di Ustica, la crisi degli euromissili. L'Elio Lagorio, da Ministro della Difesa, è stato quello che ha dato il via alle prime missioni militari italiane all'estero, ha mandato l'esercito in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Irpinia, ha ripristinato la parata militare del 2 giugno, che ancora oggi si celebra, è stato Presidente del Consiglio dei Ministri Europei della Nato, da Ministro dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo ha riformato il CONI, ha istituito il Fondo Nazionale dello Spettacolo. L'Elio Lagorio è stato capogruppo alla Camera, è stato deputato europeo, è stato sindaco di Firenze, è stato il primo Presidente della Regione Toscana, della storia della Regione Toscana. L'Elio Lagorio è stato un uomo politico di governo, un socialista di governo, di quelli che a guardarli oggi specie di fronte alle miserie di un dibattito, di una politica che insegue l'antipolitica perdendo orgoglio e spina dorsale, appare di fronte a tutti noi un gigante. Per questo è doveroso ricordarlo, per questo è doveroso tenerlo ad esempio. A lui, alla sua memoria, un saluto e un saluto e un abbraccio affettuoso ai suoi familiari in tribuna. Grazie. La politica ha contato sempre molto e non c'è dubbio che l'Elio Lagorio abbia vissuto la sua militanza nel Partito Socialista Italiano con grande passione, partecipazione e con una profonda e originale elaborazione di contenuti. Iniziò giovanissimo assumendo ruoli ed incarichi di responsabilità via via maggiori, ce li ha ricordati la Vice Presidente Sereni. Voglio però anche ricordare che fu il primo Vice Presidente dell'Unione dei Partiti Socialisti della Comunità Europea, antesignana del Partito del Socialismo Europeo, perché l'Elio Lagorio era un europeista convinto. Uomo di cultura è stato sempre un convinto assertore del metodo riformista per un partito socialista che voleva politicamente autonomo, soprattutto nei confronti del Partito Comunista. Una linea che ha poi assunto importanza e concretezza crescenti proprio nell'esercizio delle sue responsabilità di governo. Come primo socialista a guidare il Ministero della Difesa lasciò un'impronta decisa che gli valse un unanime riconoscimento sia nella gestione del di Castero, fu lui a lanciare l'iniziativa delle caserme aperte per celebrare la Festa della Repubblica, riavvicinando la cittadinanza agli uomini in divisa, sia dando un contributo essenziale alla svolta che portò alla fine della Guerra Fredda. Mi riferisco alla vicenda della dislocazione degli euromissili in Italia, in Gran Bretagna e nella Germania Ovest, una decisione che consentiva alla Nato di rispondere efficacemente alla pressione che Mosca stava esercitando con lo schieramento dei missili SS-20 ai confini europea. Una scelta che contribuì a riportare i sovietici al tavolo delle trattative fino alla firma del trattato INF tra Reagan e Gorbachev nel 1987 a Washington. Una decisione che in Italia, come nel caso della Scala Mobile, fu aspramente contrastato dal Partito Comunista Italiano, ma che consentì al nostro Paese di assumere un più alto e netto profilo internazionale. La forza con cui il governo italiano si sarebbe contrapposto qualche anno dopo a quello statunitense nella vicenda di Sigonella derivava anche dall'aver dimostrato prima coerenza nel rispetto dei valori della libertà e della democrazia, sempre e dovunque, una linea che in Lelio Lagorio trovava un convinto assertore ed un originale interprete, un'eredità che ricordiamo oggi in quest'Aula e che ci piacerebbe non venisse dispersa. Grazie di questa testimonianza, è stato interessante rivedere questa carrellata e ora però la parola ce l'ha il Presidente della Regione Eugenio Giani che ha raccolto il testimone in qualche modo. Per me è un onore enorme. Devo dire che mi fa molto piacere che stasera arriviamo a conclusione di un lavoro che Silvia, ricordo quando ne parlammo la prima volta, mi aveva in qualche modo stimolato, allora ero Presidente del Consiglio regionale, nel momento in cui la commemorazione di Lelio ci portò a un convegno e questo materiale è stato poi con tutto quello che magari gli stop and go che abbiamo abitualmente vissuto nelle pubblicazioni, è stato elaborato e a Francesca e a Franco Mariani dico bravi, grazie, perché oggi come si suol dire carta canta, ovvero scritta manent, verba volant, i convegni, le parole le fanno volare via, ma i libri rimangono anche per testimoniare quello che poi in questo caso è una biografia, è un ruolo, una capacità politica che Lelio Legorio ha testimoniato rendendolo sicuramente una delle più grandi personalità della Toscana nel XX secolo. Io, visto che Franco Mariani mi ha onorato di mettermi una slide, che sono quelle che facevo la mattina nel commentare le varie date della Toscana giorno per giorno, il libro che ho scritto qualche anno fa, posso lasciarmi andare anche a qualche considerazione che va oltre l'illustrare quello che è il curriculum sicuramente per un uomo politico più alto che su questo territorio qualcuno abbia mai potuto raggiungere, perché ditemi voi chi diventa sindaco di Firenze per sei mesi nel 65, ma con un grande significato politico a livello nazionale, e contemporaneamente l'unica vice carriera, noi socialisti dicevano fate le vice carriere, perché solitamente in quel periodo c'era il leader di punta comunista, e il vice lo faceva il socialista, a livello spesso di comuni, a spesso di regioni, ma l'unica vice carriera lui l'ha fatta in quei cinque anni precedenti al ruolo che ebbe in regione, quando fu portato a essere il vice presidente della provincia, peraltro con personalità di primissimo ordine, perché erano state quelle di Gabugiani, quelle di Fabiani, poi è l'uomo di punta del partito socialista, diventa presidente della regione, ministro sarà due volte, ma come ministro della difesa sarà l'uomo di cui si parlerà per la presidenza del Consiglio, onestamente se le elezioni fossero andate in altro modo, ovvero se in quelle elezioni in cui Ciriaco De Micta perse il 9% con la sua democrazia cristiana, e quindi l'alternanza che era la prospettiva politica con cui un dinamico e forte partito socialista sollecitava un cambio nella guida del governo, non fosse concretizzata con il governo Craxi, il socialista di cui si parlava, se probabilmente la democrazia cristiana perdeva, ma perdeva di meno, comunque manteneva le sue forze, era chiaro che se arrivava in quell'inizio degli anni 80 a un premier socialista, probabilmente la figura che avrebbe guidato il governo sarebbe stato Lelio Lagori. In realtà cambiò ministero, non fu più ministro della difesa, lo fu del turismo, dello spettacolo, dello sport, il libro e le testimonianze mettono in evidenza quanto fu popolare anche in quel ruolo, e fu il modo con cui si proiettò al Parlamento europeo, dove non dimentichiamoci che nella nascita, il Parlamento europeo nasce nel 1979, quindi siamo nei primi decenni del Parlamento europeo, egli svolse un ruolo che fu quello di capogruppo del Partito Socialista, nel contesto di socialisti che allora avevano il 40%. Di conseguenza la sua carriera veramente in tutti i livelli, dal livello locale a quello della regione dove esaltò il suo ruolo, a livello di governo, a livello europeo, è veramente completa, come penso nessun altro, sul nostro territorio. Ma dietro questo c'era un uomo molto coerente sul piano ideologico, culturale, ideale. Non dimenticate che lui, che all'università e a questo rapporto con Piero Calamandrei, aveva dedicato molto, era stato poi l'assistente, era stato coerente nel entrare in un movimento, in un partito marzista, il Partito Socialista, solo nel 1956, quando il Partito Socialista consuma la rottura con il Partito Comunista all'indomani dei carri armati in Ungheria. Fino a quel momento, finché il Partito Socialista era il partito del patto d'unità d'azione con il Partito Comunista, Lagorio aveva militato, anche se erano partiti di scarsa consistenza da un punto di vista numerico, in quel movimento di partiti laici e liberali, che guardavano a sinistra ma che avevano un'impostazione ben diversa. Era il segretario di UP, di Unità Popolare, uno dei partiti che si era battuto contro la legge truffa quando entrò nel Partito Socialista nel 1956. Io ricordo l'autorevolezza, consentitemi una nota personale, quando dopo la laurea in città di studenza il mio primo lavoro fu quello di praticante, procuratore legale dal professore Alberto Predieri. Per me era un grande onore, perché era uno dei docenti di diritto amministrativo che andava per la maggiore. Andai appunto in Via dei Serbi 49, era il luogo dove Lelio Lagorio aveva fatto l'avvocato prima che la politica lo portasse tutto a sé, e Predieri mi disse Gianni, no, te, visto quello che fai, io ero diventato, avevo 26 anni, ero diventato segretario cittadino del PSI, proprio Lagorio e gli altri esponenti avevano determinato un forte rinnovamento. Io e Riccardo siamo della stessa età e a quell'età, a 26 anni, Riccardo diventò il segretario provinciale del Partito Socialista e io il segretario cittadino. Quindi naturalmente Lelio mi conosceva molto bene, ma anche Alberto Predieri in questo senso mi conosceva, mi disse, tu andrai a lavorare nella stanza Lagorio e nel contesto dell'ultimo piano di Via dei Serbi 49 la stanza Lagorio c'è rimasta non solo finché ci sono stato io, ma anche quando con gli amici che avevano condiviso con me quell'esperienza che erano rimasti a fare agli avvocati, dicevano sempre la stanza Lagorio. E questo era perché Predieri, che aveva condiviso con lui l'associazione di studio professionale, diceva, ma prima o poi, quando Lelio ritornerà, lui deve sapere che quella è il suo punto di riferimento. Quindi avvocato lo è stato nell'amore che leggiamo nei libri di Calamandrei fino in fondo, anche quando poi in realtà tutta la sua vita è stata una vita dedicata alla politica. e ricordo quando gli raccontai, a 26-27 anni, la prima volta che lo vidi gli dissi questa circostanza e lui mi disse, ma con te poi abbiamo un'altra cosa in comune che mi piace. E dico, dimmi, Lelio, ti chiami come mio padre, anche suo padre si chiamava Eugenio e questa era quella nota di simpatia, di umanità che Lelio manifestava e devo dire che rappresentava per tutti noi veramente la figura della massima autorevolezza che potesse esserci. Poi nel tempo si è perso, ma guardate, in quegli anni in cui io mi cimentavo con la politica, per tutti noi era il grandù. Era l'uomo che aveva fondato, dopo gli anni in cui non se ne parlava più, di un livello intermedio, da un lato comuni e province, dall'altro lo Stato, la Regione. E quando ho parlato di lui ricordo in un convegno proprio che abbiamo vissuto per i 50 anni dalla Regione, l'abbiamo vissuti due anni fa, quando nel 2020 abbiamo ricordato i 50 anni dall'attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario e ricordo che venivano citati come esempi delle Regioni Bassetti, il Demo Cristiano che presideva la Regione Nord, l'Agorio, e poi non ricordo chi del Partito Comunista, il Presidente dell'Emilia Romagna, insomma, era considerato non solo il primo Granduca, il primo Presidente della Toscana, ma colui che aveva in qualche modo caratterizzato insieme ad altre figure autorevoli quella stagione che significò appunto la Regione Toscana, ma la sua Presidenza. E devo dire che il ruolo che lui ha svolto come Ministro della Difesa subito dopo è un ruolo che gli conferiva un prestigio, un'autorevolezza assoluta. Quando presentammo con lui mi chiese appunto di poter partecipare all'evento quel libro in cui citava Austerlitz e ripercorreva la sua vita da Ministro della Difesa in qualche modo, forse perché il padre era stato militare, quindi la vita militare, l'uomo indivisa, l'aveva visto in quelle battute che prima esprimeva le 24 ore a disposizione. Io ricordo l'allora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Poli, che poi è morto a Firenze e che è stato il comandante del Commiliter, mi diceva nel nostro ambiente tutti diciamo che l'Elio Ragorio è stato in assoluto il Ministro della Difesa che più abbiamo sentito vicino. Forse questo fatto della famiglia, del padre, e chi me lo diceva era colui che per due anni è stato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano. Indubbiamente la sua visione era una visione di un socialismo liberale, di un socialismo riformista che porterà a essere in Lagorio sicuramente la figura di maggiore supporto e maggiore autorevolezza nei rapporti istituzionali del governo Craxi. E come sempre, ho citato nel 1956 il momento della grande rivoluzione copernicana del Partito Socialista come momento in cui Lagorio vi entra, è il momento in cui Lagorio vi esce dicendo ormai a quest'età ho intenzione di fare altre cose, il momento in cui lui esce da ruoli istituzionali è il 1992, il momento in cui inizierà quella seconda rivoluzione, purtroppo per il Partito Socialista e i partiti della Prima Repubblica diciamo una rivoluzione in negativo perché significa quello che poi andrà dietro il nome di Mani Pulite ma io ho sempre pensato che di fronte a quello che è la temperia di quei giorni e di quei tempi Lagorio non ebbe mai il benché minimo e marginalissimo coinvolgimento in nessuno dei fatti che pure in quella stagione di temperia 1992-94 veniva fuori. È come se Lagorio oltre le grandi capacità il curriculum, il suo ruolo e la sua autorevolezza come ho cercato di descrivere e far intendere avesse anche un'altra grande caratteristica quella di saper sempre scegliere i tempi uscì dal lagone politico nel modo migliore, nel modo giusto e da allora non è che la sua vita si esaurisce io ricordo le chiacchierate a casa sua quando scriveva il libro su Volterra quella Volterra nel quale non era nato ma era nato a Trieste ma i trasferimenti del padre l'avevano portato dove si era radicato dove si legherà quella che è la futura e per tutta la vita moglie e i suoi iscritti su Volterra ancora qualche tempo fa ero da poco presidente della regione il presidente della cassa di risparmio di Volterra mi dice ora ti voglio fare un bel regalo la più bella storia della nostra città e mi dai tre volumi di Lagorio io non debbi il coraggio di dirti li ho già e dedicati ma in qualche modo dentro di me dissi quella con la dedica la tengo a casa questa invece la tengo in ufficio ma ecco che in quel percorso di vita egli seppe sempre in ogni ruolo esercitare una funzione da protagonista anche quando è un'altra delle cose che mi onoro di tenere a casa mia la collezione di città e regione anche quando riesce ad essere direttore guida di una rivista che in quel momento rappresenta un riferimento proprio sulle tematiche del regionalismo a livello nazionale quindi parliamo davvero quando parliamo di un grande di una grandissima figura e per chi poi l'ha conosciuto ne ha vissuto il carisma ne ha sentito l'ispirazione la molla nell'impegno politico sicuramente una persona che si può dire ha profondamente lasciato il segno nella Firenze nella Toscana nell'Italia del ventesimo secolo grazie adesso abbiamo parlato sempre della regione eccetera però c'è un passaggio importante che è stato citato è che è quello di Palazzo Vecchio nei mesi in cui è stato sindaco credo che forse nessuno meglio di Luca Milani che il presidente del consiglio comunale possa dare testimonianza anche di questa parte della stagione politica di Lagorio grazie buon pomeriggio a tutti saluto i familiari e tutti gli amici di Lelio Lagorio signor prefetto grazie davvero a tutti quanti per essere intervenuti porto il saluto mio personale quello del sindaco Nardella e quindi di tutta la città ecco proprio per ricordare Lelio Lagorio che fu sindaco nel 65 eletto dopo il sindaco Lapira quindi in un momento particolarmente difficile probabilmente e fu eletto in consiglio comunale con i voti del partito comunista e quindi questo a livello nazionale creò un certo imbarazzo perché eravamo nel governo al governo Moro e questo è stato riconosciuto anche negli scritti che ha lasciato Lagorio e che sono riportati nel libro di Mariani e di Abramo il racconto di quei giorni da cui vi riporto queste righe sapevamo scrive Lagorio che non ci sarebbe stata una maggioranza precostituita e quindi il voto sul bilancio quando fosse venuto all'ordine del giorno del consiglio comunale sarebbe stato un passaggio rovinoso la giunta aveva il tempo però per fare qualcosa di buono per Firenze era una sfida chi chiudeva l'era la pira e bisognava dimostrare alla città che c'era gente nuova capace di guidare in avanti Firenze e di realizzare cose concrete così a Palazzo Vecchio rimase per altri dieci mesi addirittura il cardinale Florit si mosse dalla sua cattedrale e venne in comune a rendere visita al sindaco in quell'occasione gli rivelò io sono il prete che l'ha battezzata nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo a Trieste e si dice che il cardinale Florit a Palazzo Vecchio non era mai voluto entrare nemmeno quando il sindaco era il sindaco cattolico latina questa dimostrazione della taratura del valore del nuovo sindaco e dopodiché però appunto questa possibilità di trasformazione si è interrotta in autunno dopodiché però è stato vice sindaco dal 66 al 69 con i sindaci democratici cristiani Bargellini e Bausi e si attivò tantissimo nella città devastata dalla tragica alluvione del 4 novembre del 66 e poi tutta la fase successiva per il rilancio dell'economia e per riportare la città a una situazione di normalità ecco questo è una piccola testimonianza dell'impegno del sindaco per la città di Firenze e quindi grazie a Franco grazie a Maria per l'impegno di questo volume grazie soprattutto al Consiglio regionale per averlo promosso per averlo reso disponibile a tutti quindi un ricordo importante quello che noi oggi siamo lo dobbiamo a chi ci ha preceduto e quindi siamo eredi del grande impegno di tante belle persone che hanno voluto bene a Firenze e gli hanno dedicato tutta la parte della loro vita quindi grazie alla famiglia grazie a voi grazie presidente credo che il senatore Nencini forse meglio di nessun altro che dovrà parlare dopo di lui potrà dirci qualcosa invece di questa sua esperienza non soltanto al Consiglio regionale così come ci ha detto Mazzeo ma anche come ricordava il presidente Gianni come uno dei giovani che a quel tempo diciamo nel tempo in cui Lagorio era uno dei leader socialisti a Firenze muoveva i suoi primi passi politici e poi insomma le ha mossi fino in fondo adesso beh grazie intanto per l'invito presidente Francesca Silvia e grazie soprattutto ad Alessandra e a Franco per questa impresa perché insomma è complicato parlare delle persone che hanno fatto molto perché si rischia sempre di sfociare nell'abbondanza rischiando di stare troppo all'interno di un verso straordinario di Virgilio quando scrive che dei morti si parla sempre bene è uno degli errori e delle ipocrisie più grandi di Lelio invece si può parlare serenamente per quello che ha costruito a condizione di metterlo nella giusta dimensione e utilizzo i miei dieci minuti per provare a metterlo nella giusta dimensione qualche mese fa è uscito un libro di un autore che a me piace particolarmente Don Wieslow città in fiamme a un certo punto c'è un dialogo tra un capo mafia e un picciotto italo-americani nel New Jersey e il capo mafia chiede al picciotto ma tu lo sai cos'è la storia il picciotto ci pensa un po' pensa ad avere la risposta e dice lo so la storia è ciò che è accaduto nel passato il capo mafia usa un linguaggio da capo mafia non è ripetibile pubblicamente dice non hai capito niente la storia è ciò che la gente ci racconta del passato ha ragione il capo mafia ciò che ci viene raccontato e siccome la storia la scrivono in genere i vincitori non la scrivono mai i vinti e quando i vinti scrivono la storia la critica subissa la storia scritta dai vinti come se fosse la storia finta falsa quella storia lì va inserita in un certo periodo della storia italiana perché è storia italiana per collocarla nella posizione giusta non dico ovvia dico giusta i tre punti oggi è assolutamente normale parlare di riformismo ne parlano tutti il primo che sdogana il termine riformismo a destra fu quando fondò alleanza nazionale Fini ma se tornate indietro nel tempo parlare di riformismo negli anni 70-80 era una sorta di eresia io ricordo ancora lo ricordava Eugenio quando abbiamo iniziato assieme più o meno siamo grossomodo nel 1981 avevo davanti a me io ero nell'esecutivo della segretaria nazionale della federazione giovanile e socialista davanti a me avevo Pietro Folena che era segretario della FIGC un segretario beh insomma era tanta roba la TGC lavorammo per due giorni su un documento di una pagina quando alla fine le cose sembravano fatte rompemmo perché io volevo scrivere riformista e lui voleva scrivere progressista e rompemmo perché alla fine ma se ci pensate ancora oggi e uno dei grandi temi della sinistra italiana è sempre lì no oggi nel dibattito del PD con chi si allievi di con i 5 stelle quindi prevale l'ala uso aggettivi manipolabili massimalista o si vuole alleare con il terzo polo l'enzi calenda socialista e quindi prevale l'anima riformista punto interrogativo farete un congresso e lo deciderete ma al di là di ciò che deciderete e o decideranno il tema è esattamente si ripropone con caratteristiche del tutto simili a un tempo che noi immaginavamo già superato ecco l'elio appartiene a quella categoria lì per l'elio la differenza tra massimalismo e riformismo fu così chiara fino all'inizio che sposò immediatamente quell'aggettivo senza avere mai tentennamenti noi crescemmo dietro a quella storia lì o no erano dei ragazzi di vent'anni molti erano universitari chi veniva da scienze politiche chi da legge soprattutto ma c'era anche un gruppo di ragazzi che erano figli di esuli del PASOC che erano arrivati a Firenze negli anni 70 che i figli erano rimasti architettura soprattutto erano rimasti anche con Panaguris e con Oriana Fallaci dove? qui dietro perché qui dietro c'era la sezione centro che ospitava Panaguris e gli esuli greci fuggiti dalla Grecia dei colonnelli ricordo questa storia perché nella dimensione di quel tempo e quindi l'ala riformista che a Firenze era nettamente minoritaria e che diventa maggioritaria poi con Craxi a livello nazionale negli anni 80 ecco l'elio fu un antesignano di quella storia lì parlarne oggi è una normalità retrodatarla per quando accade negli anni 70 80 allora fu un'eccezione un'ottima eccezione soprattutto se la collochi nella dimensione toscana dove avevi un grosso partito comunista egemone in moltissime città e con il quale però c'era una sorta di collaborazione costante che con l'elio e con uno dei suoi discepoli Ottaviano Colzi poi alla fine diventa eresia eresia così tanto da portare Lando Conti sindaco di Firenze un repubblicano e portare dopo Massimo Bocianchino che l'elio andò a prendersi a Parigi collaboratore di Jack Lang ministro della cultura e di Mitterrand di François Mitterrand se lo portò a Firenze lo fece votare e lo fece eleggere sindaco Bocianchino è il nipote di quel Bocianchino sindaco di Ferrara che nel 1921 gennaio 21 fu il primo sindaco socialista sbolognato dal suo comune dalle bande fasciste e la prima bastonatura di Matteotti avviene il 21 gennaio del 21 a Ferrara Matteotti viene via dal congresso di Livorno se ne va a Ferrara a difendere il sindaco socialista che per l'appunto è il nonno di quel Massimo Bocianchino sindaco di Firenze una storia meravigliosa da brividi la seconda delle questioni la politica europea perché anche qui ritorno a a quel tempo e aveva una professoressa di storia dell'arte che diceva se volete capire come costruivano i monumenti dovete guardarli non con gli occhi di oggi ma con gli occhi di allora dice se no andando a Roma l'avete mai visto il Duomo d'Orvieto andando a Roma sulla destra è enorme dice che senso ha il Duomo d'Orvieto così grosso in una cittadina di 6.000 abitanti e per forza era un ducato Orvieto e doveva ospitare il Duomo tutti i cittadini non solo della città ma del contato e quindi la dimensione doveva essere quella ma se lo leggi con gli occhi del 900 non capisci va letto con gli occhi del 1300-1400 anche la politica va letta con quegli occhi lì lo fanno loro scrivendo cioè se la va datata in una data condizione temporale ma vi ricordate voi le giunte i monocolori comunisti cosa scrivevano negli anni degli euromissili la maggioranza dei comuni governati in Italia dai monocolori c'è ancora lo vede ancora avendo il privilegio di girare l'Italia c'è ancora qualche cartello comune denuclearizzato o mi ricordo male c'è c'è allora quel comune denuclearizzato se avesse vinto quella linea lì quella linea lì perché sono gli anni degli euromissili quando il governo italiano sceglie l'elio l'elio con tutta la filiera dei socialisti democratici europei Schmitt in Germania Brandt eccetera eccetera scelgono ma letta oggi è la normalità perché quella è una misura che porta che dalla spallata finale dal punto di vista economico perché l'Unione Sovietica non riesce a mantenere la competizione economica con il blocco occidentale questa è la ragione del crollo dell'Unione Sovietica non è altro perde lì e perde lì perché con la scelta degli euromissili alla fine questa corsa che poi diventò corsa a riarmo circoscritto perché c'era già l'accordo per il no nucleare poi provoca la rottura con Gorbachev la rottura di Gorbachev con il suo sistema e il crollo nell'89 del muro di Berlino sono misure queste nella sinistra italiana e chiudo rapidamente è che vengono considerate eretiche anzi vengono considerate il male assoluto ma la scelta di quel tempo che Craxi fa che la Gorio fa che fanno fu una scelta che ti ricollega direttamente con il mondo del laburismo del socialismo democratico e delle socialdemocrazie europee questa fu la strada scelta che venne mantenuta costantemente in anni molto più complicati e venne fatta in una condizione di minorità nella sinistra italiana andare a rileggersi quello che succede allora a sinistra il partito comunista è Berlinguer e poi di Natta eccetera eccetera l'ultima delle questioni un po' meno eretica ma soltanto un po' meno è quella che riguarda europeismo già stato ricordato da molti di voi e il ruolo che l'elio ha nella costruzione del partito del socialismo europeo beh altra altra fatica eh è altra fatica altra fatica perché lo ricordo agli smemorati chi porta il partito democratico nel PSE è Renzi nel 2014 chiaro? 2014 qui stiamo parlando del 1989 cioè stiamo parlando mi pare siano 25 anni prima 2014 meno 89 25 anni prima cioè un quarto di secolo un quarto di secolo beh un quarto di secolo cambiano tante cose nella vita non solo ti puoi risposare tre volte ma insomma cambia le relazioni internazionali la geopolitica lo dico e ho concluso senza nessuno spirito di polemica ma riallacciandomi a Don Wieslow questa è la storia accaduta altro spesso è la storia che si racconta questo è accaduto davvero non dico che sia la verità ma queste tre cose sono accadute davvero e l'Alio fu non solo un maestro per molti di noi io continuavo a telefonarli fino a poche settimane prima che morisse ed era sempre pieno di ottimi consigli e poi avevo questa abitudine di scrivere a mano io con qualche appunto ve lo consegnavo quando suonavi eccetera eccetera ed è anche il segno di una cosa che ha sempre un valore assoluto anche una di quelle cose sulle quali non ci può essere un'opinione diversa che ha un'opinione diversa a torto dice madonna Nencini no a torte basta ha ragione ha ragione si può fare cultura senza fare politica ma non si può fare politica senza fare cultura non si può fare rischi di imbatterti in delle situazioni beh insomma ce ne sono molte citazioni da fare ma in omaggio all'elio mi ricordo soltanto di lui lo faccio con molto piacere e naturalmente anche con gli autori del libro grazie grazie al senatore Nencini anche perché ci ha dato due tre stimoli che credo i nostri autori che i nostri autori raccoglieranno sicuramente io non so vorrei sentire Alessandra per esempio allora Nencini ci diceva ma un conto è la storia che si racconta e quella che si scrive e quella che racconta la gente voi che storia avete scritto per questo libro perché in effetti ci sono moltissime testimonianze sue di Lagorio e anche qualcuna di altri cioè è stato un lavoro immagino impero ma la chiave resta sempre quella che diceva Nencini ecco che scelta avete fatto sì grazie grazie a tutti voi ringrazio naturalmente tutti i presenti le autorità ringrazio la famiglia Lagorio per essere qui presente stasera ma anche per tutto il supporto che ci ha dato in questi cinque anni perché in effetti il libro nasce da un'idea mia e di Franco Mariani ben cinque anni fa e nasce subito con l'appoggio del presidente Gianni che abbiamo avuto qui con noi e colgo l'occasione per ringraziare anche Alessandro Lopresti perché anche grazie al suo contributo è iniziata la stesura e lo sviluppo di questo progetto ringrazio scusatemi faccio due ringraziamenti anche l'associazione Firenze Promuove perché senza la quale appunto non saremo stati in grado di poter sviluppare questo libro quindi dicevo che l'idea del libro è nata insieme a Franco cinque anni fa è nata durante la presentazione in realtà del libro sull'alluvione scritto da Franco che abbiamo presentato a Roma e a cui in questo caso Tommaso aveva partecipato da lì è nata appunto l'idea di raccontare e ricordare la figura di Lelio Lagorio questo libro nasce con una serie di testimonianze di ricerche di studi sulla figura di Lelio Lagorio proprio per l'esigenza di raccontare il suo percorso politico e istituzionale Lelio Lagorio come hanno già detto tutti tutte le autorità anche che hanno preceduto il mio intervento è stata una figura rigorosa un rappresentante delle istituzioni storico lucido attento e anche un galantuomo un uomo con un grande senso dello Stato Lelio Lagorio ha svolto ruoli rilevanti in vari contesti politici e questi ruoli politici che Lelio Lagorio ha assunto richiedevano una grande conoscenza e competenza ed è proprio su queste qualità che Lelio Lagorio ha sempre portato avanti nella sua vita che mi sono anche voluta soffermare nella stesura e che troverete appunto anche nel libro la conoscenza e la competenza del ruolo che si va a ricoprire prima diceva il presidente Mazzeo che avremo piacere di far arrivare questo volume anche nelle scuole ai giovani perché i giovani capiscano anche l'importanza di assumere un ruolo istituzionale o no ma di portare avanti un qualcosa nella vita e sviluppare attraverso la conoscenza appunto e la competenza cioè attuare gli strumenti che si possiedono e quindi speriamo davvero che questo libro sia anche utile ai giovani e ai giovani che si affacciano alla politica in questi anni che abbiano ben presente il ruolo che vanno a ricoprire ruolo che certamente ruoli che certamente Lelio Lagorio ha sempre avuto ben presente durante il suo percorso politico Lelio Lagorio è stato un uomo di governo e ha avuto tantissima importanza il momento storico in cui lui ha assunto appunto il ruolo anche di governo sappiamo che ha ridato dignità alle forze armate sappiamo che è stato lui a far intraprendere le prime missioni internazionali di pace lui voleva fortemente che le forze armate rappresentassero lo Stato cioè l'amor di patria che spesso ricordiamo nel libro è per questo anche che abbiamo deciso di titolare Lelio Lagorio un socialista tricolore proprio per questo motivo l'amor di patria naturalmente unito anche al forte spirito europeista che ha sempre accompagnato Lelio Lagorio con una visione moderna e sempre all'avanguardia è sempre stata una figura molto autorevole molto elegante si distingueva molto dai politici anche di quel tempo era sicuramente una figura eccezionale è così che noi lo abbiamo anche descritto un uomo un politico un uomo di Stato che ha lasciato il segno ed è proprio questo segno che io e il collega Franco Mariani abbiamo voluto ricordare e raccontare grazie grazie uso questo microfono e vi faccio meno ginnastica insomma invece di alzarmi su tutte le volte eccetera grazie Alessandra anche perché devo dire che il lavoro che avete svolto è stato veramente minuzioso ma in questo vorrei anche sentire Franco perché Franco è abbastanza noto per essere uno minuziosissimo che va a cercarsi particolari eccetera e da questo libro mi pare che si che si senta e che si veda sì anche perché tutto tutta la missione di Lello Ragorio sta riassunta in una frase o meglio una missione che Bettino Craxi gli conferì in via del corso a Roma sede del partito socialista quando gli disse il partito deve rinforzare il settore problemi dello Stato tu sei la persona giusta avvocato una lunga esperienza come amministratore insomma tocca a te lo so lo so disse Craxi che non è un affare semplice ma devi fare in modo che l'immagine del partito socialista diventi l'immagine dello Stato ecco in questa fase sta racchiuso un po' tutto quello che è stato Lello Ragorio un quotidiano scrisse attenti al ministro dei portenti troppo abile e bravo tanto da pensare al domani per non risultare pericoloso ma Craxi da grande vuole fortissimamente fare il presidente del consiglio costi quel che costi anche a colpi di Lagorio il giornalista Antonio Tajani che è stato quello che ha scritto la prima biografia su Lello poi presidente italiani del Parlamento europeo e prossimamente anche il prossimo ministro ormai in pectone monarchico dice nel suo libro dedicato all'Agorio scrisse sembra uno di quelli intellettuali del Tardo Cinquecento un po' cinici indifferenti verso le idee di scarsi principi più vicini al Guicciardini e all'Eletino che al Machiavelli ecco io che ho avuto modo di conoscerlo bene posso assicurare così come possono farlo anche molti di coloro che sono oggi qui in sala che Lello Lagorio socialista di ferro è sempre stato amato da tutti anche dai nemici perché ha sempre detto quello che pensava con estrema franchezza ma non solo da uomo di grande equilibrio si è sempre riusciti a ragionare con lui serenamente e quanto si può dire oggi dei politici attuali questo di fuori forse anche di nessuno i detrattori per denigrarlo affermavano che il maggior peccato di Lagorio era l'ambizione a questa accusa Lello amava rispondere così verissimo che sono ambizioso non sono mica un frate trappista è vero io amo il potere me lo sento così come un servizio come lotta per influire sulla società e migliorarla non il potere come mezzo per cambiare le proprie condizioni sociali la ruberia tanto per intenderci ecco in questa frase come servizio come lotta per influire nella società e migliorarla si possono anche individuare le sue due prime linee di uomo distinguendo l'uomo dal politico la prima quella di un avvocato un avvocato cerca lui è sempre ha sempre amato essere ricordato come avvocato anche tant'è vero che nel libro abbiamo messo una delle rare foto credo con la toga dell'avvocato indossata credo in uno dei tanti esami ai nuovi avvocati e poi quello del giornalista perché il giornalista ha un potere vero Stefano non ha un potere come quello dei politici una volta oggi giorno no ma all'epoca veramente un giornalista se scriveva un pezzo lo scriveva bene poteva influenzare sui politici oggi non è più così soprattutto su quelli di Palazzo Vecchio eh vorrei dire meno su quelli regionali ma quelli di Palazzo Vecchio non si legge giornali a Palazzo Vecchio ora dire che fosse solo ambizioso come qualcuno ha anche scritto di recente veniva prima ricordato un libro ma insomma su quel libro ci sarebbe tanto da dire vero Silvia eh sarebbe troppo riduttivo in quanto Lelio Lagorio è stato un politico attento un osservatore intelligente un uomo di governo fedele al governo non al suo governo fedele al governo ma ancora prima fedele alla sua patria abbiamo sentito quanto ha fatto quelle forze armate ma soprattutto evidenziamo un passaggio importante lo vorrei sottolineare il ripristino della parata del 2 giugno la parata della festa della Repubblica in generale però i giornalisti con lui non sono stati tanto teneri come quando sul settimanale l'Espresso apparve il titolo generale Rega Sergente Lagorio oppure nei cortei no erano gli anni della protesta soprattutto per gli aeromissili a Comiso la gente in particolare alla marcia della pace di Assisi gridava Lagorio scemo guarda quanti scemo quando arrivò al ministero della difesa il ministro uscente Aldo Sarti al momento del passaggio delle consegne gli disse ti troverai bene e Lagorio gli rispose speriamo speriamo il sentirsi indesiderato è proprio una brutta impressione e poi commentò ecco per me è stato come affacciarmi dal parapetto basso di un campanile alto fa paura anche a chi non soffre di vertigini Lagorio subito presentò il suo programma per le forze armate puntando su quattro obiettivi più efficienza più considerazione per la vita militare maggiore legame fra militari e società più conflessione tra vertici e base e un'altra cosa che vorrei sottolineare e evidenziare è che con lui iniziò un processo lunghissimo che ha portato le donne nelle forze armate da quando ho assunto la responsabilità della difesa disse in un'intervista ho pensato che a di là degli impegni operativi era necessario dare un senso ideale al programma e a questo fine mi sono adoperato per rilanciare valori di un insegnamento patriottico nazionale e riformista nonostante ciò andò anche contro i vertici militari quando firmò il referendum per l'abrogazione dei tribunali militari cosa che non piacque molto ai vertici militari dell'epoca è stato ricordato come nell'agosto del 1982 quando ci fu la crisi di governo il presidente del consiglio l'allora fiorentino Giovanni Spadolini costretto alle dimissioni e c'era all'epoca presidente della repubblica Sardo Pertini pensò anche a nominare a incaricare Nelio Lagorio di assumere l'incarico di presidente del consiglio dei ministri sembra siccome poi l'indiscrizione della sua possibile nomina si diffuse tra i giornalisti dell'epoca però sembra che a non far nominare Lagorio presidente del consiglio dei ministri sia stata anche proprio l'insistenza dei vertici militari che cambiarono opinione sul ministro in carica chiedendo la sua riconferma nel nuovo governo quando si diffuse l'indiscrizione questa non sorprese nessuno pensate che Lagorio nonostante fosse deputato solo dal 3 giugno 1979 quando venne eletto come capolista nella circoscrizione Firenze di storia prese 14.000 preferenze a Montecitorio non giunse già per i viottoli della burocrazia di partito bensì dopo un lungo apprendistato nelle varie amministrazioni locali ricordato prima provincia e poi comune e poi regione e forte di una prestigiosa esperienza professionale sia come avvocato che come giornalista che come storico come scrittore arrivava da una vocazione politica precoce maturata sin da banchi del liceo e da una cultura di alto livello pensate che la moglie che tra l'altro è nata anche lei il 9 novembre lo stesso giorno anche se in anni differenti lo dice lo disse in un'intervista e lo riportiamo nel libro io a 17 anni fui colpita da lei e da la goia e dalla sua cultura mi colpì molto questo ragazzo questo giovane 17 anni così colpo la goia è un politico attento un osservatore intelligente ma anche un uomo e un padre sempre la moglie dice la sua grande passione rivelò un giorno dopo la storia sono l'avventura dei cowboy e dei pelle rossa è la caccia ma quella ecologica due o tre colpi e basta poi rivolta il fucile e si cammina a contatto con la natura per farne entusiasmare basta la vita di un pagiano si racconta e questi sono due episodi che tengo a raccontarvi poi se avrete la bontà di leggere il libro ne sentirete e le leggerete delle altre ma questi due sono essenziali si racconta che quando la Gorio frequentò le scuole elementari a Firenze in piazza San Marco gli restò colpito un episodio che vide il protagonista il suo maestro Marcori socialista di ferro uno dei pochi insegnanti che non volevano sapere nulla del fascismo era il periodo del concordato tra stato e chiesa che aveva reso obbligatorio l'insegnamento della religione nelle scuole l'allora direttore della scuola un certo Piero Bargellini non so se questo nome vi dice qualcosa di cui poi la Gorio fu vice sindaco nella sua giunta comunicò al maestro che avrebbe chiamato un sacerdote il maestro la Gorio gli rispose se non potessi parlare a questi bambini della vita di Gesù riterrei fallita la mia missione di educatore più di una volta la Gorio racconterà quella che fu per lui la sua prima lezione di democrazia e di rispetto delle convenzioni degli altri altro episodio anche questo avvenuto in ambito scolastico quando era un giovane studente un insegnante supplente dell'istoria dell'arte dopo un discorso alla radio del luce ascoltato insieme a tutta la classe alla frase di Mussolini è meglio avere più bandiere tolte al nemico che opere d'arte nei musei si tolse dalla giacca il distintivo fascista uscendo dall'aula e sbattendo la porta commentò la Gorio devo molto a quell'uomo solo con un gesto mi ha fatto capire molte cose e concludo con un ricordo di Renzo Arbore perché la Gorio oltre ad essere stato ministro della difesa è stato ministro del turismo dello spettacolo dello sport per lo sport è nascito una sola la riforma del CONI e il fondo per lo sport e il fondo per lo spettacolo Renzo Arbore che ebbe modo di frequentare per un periodo Lelio e la Gorio perché dovevano fare una trasmissione insieme sulle forze armate tre puntate di una trasmissione tra l'altro vi posso anche dire che io ho recuperato vari audi di Lelio oltre ai filmati che avete visto e c'è anche un rarissimo audio di una trasmissione famosa in Rai Paradise dove Lelio canta anche con Oreste e Dionello quello sarebbe stato carino farvelo sentire ma non volevo così perdere l'alta l'alto ricordo istituzionale che oggi abbiamo avuto di Lelio da parte delle varie istituzioni che sono intervenute prima di me Renzo Arbore disse la Gorio l'ho conosciuto durante una cena in un ristorante insieme a un dirigente Rai mentre preparavamo un ciclo di tre puntate sulle forze armate la Gorio mi è sembrato un buon ministro prima di tutto è una persona normale cosa rara nel nostro panorama politico rispetto ad altri è molto più un moderato come si confà a un ministro della difesa e poi a quell'indispensabile distacco che coincide con l'autorità è un uomo di legge un aspetto che non va sotto la parotata gli studi giuridici ti abitano a ragionare con obiettività il suo pregio migliore è la disponibilità unita al coraggio delle sue iniziative e con questa frase io concludo il mio intervento in ricordo di lei io la voglio però voglio fare due gesti allora l'altro giorno sono venuto lunedì per esattezza a prendere le copie del libro la prima copia che è uscita l'ho messa dentro questa busta che ho sigillato questa busta io la apro e con molta commozione voglio consegnare la prima copia del libro a Tommaso chiede a Tommaso di venire qua il nipote non è per Tommaso ma è per il figlio di Tommaso da dare al nipotino perché il nipotino ovviamente non ha conosciuto credo il nonno più di tanto così potrà ci mettiamo al centro così lo potrà far meglio e quindi e quindi e quindi e quindi vogliamo fare un don istituzionale chiediamo anche il centro del consiglio comunale che è passata una fascia di colore del comune di Firenze perché non lo v那我們 hen in 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 Grazie. 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 Grazie.